Oro, oro, si, oro, ho trovato dell'oro raga, ci proviamo raga, creeper, guarda quanto carbone raga, t'ammozzo sopra, quello che mi hai fatto appare va bene Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo gameplay di Minecraft Oggi come potete vedere nel terzo episodio della serie di Minecraft, Angelicus a caso è riuscito ad avere il suo cartello qua in camera mia Vi ricordo ragazzi che se volete anche voi un cartello come quello di Angelicus a caso bisogna lasciare like al video, iscriversi al canale, condividere il video con tutti e mi raccomando, mi raccomando, commentare con l'hashtag voglio il cartello Dunque, allora come potete vedere è un po' più diversa la casa mia di prima, non questa casa qua, per quale motivo? Allora mi sono perso nella foresta l'altro giorno e nel mondo di sopravvivenza che avevo fatto Allora cosa ho dovuto fare purtroppo, dato che non sono riuscito a capire come funzionavano i salvataggi su Minecraft Perché volendo potrò semplicemente togliere il salvataggio vecchio, cioè togliere il salvataggio nuovo e lasciare quello vecchio, comunque vabbè Non ho fatto quello, bensì ho creato un mondo in creativa dove ho creato tutta questa casa Allora, sono anche capitato in un mondo abbastanza fortunato perché ho trovato un casino di roba, compresa il ferro Eccoci qui signori nella mia grotta, la mia miniera Allora, se no andiamo a vedere nel luogo dove vado sempre, che è molto in basso Questo è uno dei luoghi più bassi, ho trovato anche della redstone come potete vedere là E non solo la redstone ma anche del metallo Allora, prendiamo un po' di metallo perché abbiamo un casino di metallo in sto mondo Vi voglio scusare ragazzi perché questo video uscirà forse in ritardo Carbone preso, metallo preso, adesso andiamo a vedere se c'è qualcosa da strappare Vogliamo esagerare, eccolo, eccolo Uno in meno Eccolo, eccolo raga, uno dei tanti amici è lui Il caro e amato creeper Che esplode sempre Ma c'è qua sotto, ma do quanto ferro? Io non so se avete visto quanto ferro c'è Oro, oro, sì oro, ho trovato dell'oro raga Voglio vedere quando esco da sta grotta che cosa abbiamo Cioè avremo la vita quando esco da sta grotta Oro Quanto? No, non ci credo Oddio Oddio quanto oro Allora, molto probabilmente tra poco cambia il microfono Quindi ragazzi se arriviamo a un tot di iscritti che mi sembrano abbastanza per cambiare il microfono Farò uno speciale dove cambia il microfono Questo sta bene Ragazzi Ragazzi Ho guardato l'enderman Una volta veramente avevo una paura degli zombie Ste robe qua Ci proviamo raga? Vabbè piuttosto moriamo Ritorniamo qua dopo Ok, se gli enderman non li tocchi Non li guardi Non ti possono fare nulla Quanto mi ricordo Che merda Un creeper È stato un piacere Ciao Ma giuro Che se mi rompi la scalinata Io ti spacco le ossa Come Veramente Guarda quanto carbone raga Sette di oro Eeeh Dato che ci sono mostre delle vicinanze Io direi di rifarmi un attimo l'armatura Dato che è mezza volta Direi che siamo messi bene Dai su Abbiamo l'armatura di riserva Gli ho fatto andare un pochettino Ma comunque guardate che roba Abbiamo una bella armatura in più Eeeh Vuoi venire qua Eeeh Eeeh Felice Sei No Tronze È andato nell'acqua Non ci credo È andato nell'acqua Eh Eh Cappu St'ha mozzo sopra Quello che mi hai fatto fare Va bene Aia Ok Non mi ha preso Ragazzi Quanto benestante Madonna Ragazzi La nostra avventura Di oggi Finisce qua Abbiamo fatto un bel giorno In miniera Ragazzi Questa puntata Si conclude qua Vi ricordo che se volete Anche voi Un cartello Con su scritto il vostro nome Qua sopra Nella mia camera Basta semplicemente Lasciare un like Iscriversi al canale Condividere il video Per finire E commentare con l'hashtag Voglio un cartello Ci rivediamo signori Alla prossima E Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi